Oltre ogni paura per nuovi atti terroristici contro le chiese cristiane in Egitto, la messa di Papa Francesco al coloratissimo stadio 30 giugno dell'Aeronautica al Cairo è stata una vera festa per più di 15.000 egiziani venuti da tutto il paese, cattolici dei sette riti, dal copto al greco Melchita, dal latino al maronita, ma anche per i cristiani copto ortodossi, maggioranza tra i credenti in Gesù in Egitto, e di altre confessioni e i musulmani, tra i quali anche la moglie di un generale ucciso dai terroristi per il suo impegno contro la violenza. Dopo il giro dello stadio in golf car, il pontefice ha guidato il rito in latino e arabo. Comentando il Vangelo della terza domenica di Pasqua e l'incontro dei due discepoli di Emmaus con Gesù, il Papa lo ha suddiviso in tre parole, morte, risurrezione e vita. Morte di un'idea di Dio, un Dio creato a immagine e somiglianza dell'uomo. Per riconoscere il volto di Dio come i discepoli, dobbiamo lasciar spezzare l'indurimento del nostro cuore e dei nostri pregiudizi. Risurrezione perché quando l'uomo tocca il fondo del fallimento, quando si spoglia dell'illusione di essere autosufficiente, allora Dio gli tende la mano per trasformare la sua notte in alba. Perché non possiamo incontrare Dio senza crocifiggere prima le nostre idee limitate di un Dio che rispecchia la nostra comprensione dell'onipotenza e del potere. Vita infine perché l'incontro con Gesù risorto trasforma ogni vita come quella dei due discepoli. Poi Dio sparisce ai loro occhi e questa esperienza dei discepoli di Emos ci insegna che non serve riempire i luoghi di culto se i nostri cuori sono svuotati del timore della presenza di Dio, non serve tanta religiosità se non è animata da tanta fede e carità. Non serve curare l'apparenza perché per Dio è meglio non credere che essere un falso credente, un'ipocrita. Quindi, ha concluso il Papa, la fede vera è quella che ci rende più caritatevoli, più misericordiosi, più onesti, più umani. È quella che ci porta a diffondere la cultura dell'incontro. Insomma, Dio gradisce solo la fede professata con la vita perché l'unico estremismo ammesso per i credenti è quello della carità. Ogni altro estremismo non viene da Dio e non piace a Lui.